Benvenuti. Dopo aver analizzato il primo dei capisaldi del sistema filosofico ecleano, cioè la realtà e spirito, passiamo al secondo, ovvero lo spirito è dialettica. Allora, la parola dialettica deriva dal greco dialekestai e vuol dire discussione critica, tutto il contrario dell'accettazione supina di una tesi precostituita. Dunque la dialettica è antitesi, opposizione. Bene, adesso la domanda è, cos'è la dialettica per Hegel? Ma per cogliere il senso profondo di questo concetto fondamentale, dobbiamo dare un'occhiata allo specchietto retrovisore, per ricostruire le diverse accezioni nelle quali i vari filosofi hanno utilizzato questa espressione. Per Erachito la dialettica è la legge della realtà, in quanto l'opposizione dialettica avviene fra elementi costitutivi del reale. Per i sofisti la direttica è la legge del discorso, cioè pura abilità discorsiva, arte della parola, il dominio dei mezzi tecnici, grazie ai quali è possibile far trionfare una tesi su un'altra, rendere forte e invincibile persino l'argomentazione più gracile e inconsistente. Per Platone, invece, la direttica è la legge della ragione, nel senso che, grazie al cammino dialettico, la nostra ragione può accedere conoscitivamente all'intellegibile, cioè alla verità ultima, alla cosa in sé. Per Kant la dialettica è lo studio critico delle illusioni strutturali della mente umana. Infatti, secondo Kant, il nostro pensiero è limitato, dal punto di vista conoscitivo, all'orizzonte dell'esperienza, e tuttavia vi è in noi una tendenza naturale, irrefrenabile, insopprimibile, ad andare oltre. E però, tutte le volte che tentiamo di farlo, cadiamo inesorabilmente in una sorta di baratro conoscitivo. Per Hegel, la dialettica è, allo stesso tempo, la legge suprema del reale e il procedimento del pensiero filosofico. Perché? Perché in Hegel la sfera del reale e la sfera razionale si identificano. Infatti, per Hegel la realtà è il spirito, e lo spirito è una grande totalità onnicomprensiva che abbraccia tutto ciò che esiste, che comprende sia il soggetto conoscente, sia l'oggetto conosciuto. E di conseguenza si tratta di due facce della stessa medaglia. E quindi ha un carattere dialettico sia la struttura della realtà, sia il modo di pensarla. Allora, adesso esaminiamo la dialettica in quanto legge della realtà. Allora, secondo Hegel la realtà è spirito, e lo spirito è processo, movimento, automovimento. Questo movimento originario si sviluppa in modo dialettico, secondo una scansione triadica, cioè attraverso tre fasi. Idea in sé, che è studiata dalla logica. Idea fuori di sé, che è studiata dalla filosofia della natura. E idea in sé e per sé, oppure idea che ritorna a sé, che è studiata dalla filosofia dello spirito. Partiamo dall'idea in sé. Cosa vuol dire in sé? L'in sé è l'oggetto considerato indipendentemente dalla conoscenza che noi abbiamo di esso. Facciamo un esempio. Immaginiamo una persona che dalla nascita è chiusa in una stanza, senza specchi, da sola e con una porta chiusa. Non sa qual è il suo volto. Quello è l'in sé. Poi abbiamo l'idea fuori di sé, cioè lo spirito che si aliena per autopossedersi. Aliena viene da alius, cioè lo spirito diventa altro da sé per potersi autoconoscere. In altre parole, lo spirito si oggettiva nella natura per conoscere sé stesso. Ritorniamo all'esempio del volto umano. Siamo in quella stanza chiusa. Supponiamo che, per una qualche ragione misteriosa, improvvisamente questa persona ha di fronte a sé uno specchio. Naturalmente, grazie all'immagine riflessa sullo specchio, potrà conoscere le fattezze del suo volto. Questo è positivo, sì, perché può conoscere il suo viso, ma è anche negativo, perché quell'immagine nello specchio ha ovviamente uno status che è totalmente diverso rispetto alla persona in carne ed ossa. È una sorta di copia imperfetta, di immagine sbiadita. Terzo punto, l'idea in sé e per sé, cioè l'oggetto in quanto saputo, l'oggetto in quanto in relazione con la conoscenza che noi abbiamo di esso. In questa fase abbiamo una conciliazione fra tesi e antitesi, di più una identificazione fra l'oggetto della conoscenza e il concetto. Perché? Perché lo spirito conosce la cosa, conosce l'oggetto, ma conosce anche se stesso, si autoconosce. Dunque, è il compimento di un processo. Anche in questo caso, proviamo a fare un esempio. Il seme rappresenta l'in sé di una pianta. A quale condizione può nascere la pianta? A condizione che muoia il seme. Dunque dobbiamo, no? Se per lì lo sottoserra, morirà come seme e nascerà la pianta, ovvero il punto di arrivo di un cammino. La sintesi dei momenti precedenti. Alla prossima!